vai ragazzi faccio cuocere la pasta un bel fusillo spettacolo meraviglia vai olio spettacolo mescolo e lo faccio raffreddare pesce spada lo taglio a sentimento vai olio spettacolo in padella uno spicchio taglio vai aggiungo il pesce spada lo aggiungo alla pasta rucola a sentimento granella di mandorle spettacolo a pioggia olio spettacolo mescolo vai guardate che spettacolo